Fammi vedere l'amore Ciò che è successo prima Non è ancora finita Non lo so Ecco Immagino che farei meglio ad abituarci Sarei detto un paio di cose sulla medicina Farò del mio meglio per rifornirti le famiglie Sarei ferita e saranno più giugno Credo di mantenerti da questo lato dell'abrisso Sarei ferita e saranno più giugno 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 Credo di poter aprire quella serratura Pensi di poterla aprire? Fai il palo Sarei ferita e saranno più giugno Sarei ferita e saranno più giugno Sarei ferita e saranno più giugno È chiusa Sembra abbastanza facile Fatto Oh Grazie a tutti. Il passaggio è sbarrato. Ora come facciamo a raggiungere il dirigibile? Vediamo se riesco ad aprire questa palla. Soldiersfield, costruito nel 1903 per mano del profeta. Ti interessa? Il parco a tema è per far conoscere ai bambini il servizio nazionale. Intendi l'esercito? Abitua il giovane secondo la via da seguito. Neppure da vecchio se ne allontano. Potresti provare a forzarla. Trappola elettrica. A chi serve l'azienda elettrica? L'alternativa degli stupidi all'elettricità. Non sembra funzionare bene. Eccolo là. Il First Lady. Sembra che si diriga al Mono. Quello ci porterà a Parigi. Resta vicina. Sì, DeWitt. Chiamami Booker. Oh, va bene. Booker! Andiamo alla navetta o diamo un'occhiata al lungomare? Immagino che un posto simile sia pieno di cose che troveremmo utili. Zucchero filato, gente! L'ora sta arrivando, dice. Sei pronto? Chiamiamo la navetta se vogliamo raggiungere il dirigibile. Questi sembrano essere i comandi per te male. Sembra che questo posto funzioni solo con la trappola elettrica. È chiaro. Dove diavolo potremmo riuscire a trovarla? Guarda. Vieni a vedere il futuro dell'energia nella sala degli eroi. Proprio comodo. Signori, il falso pastore si aggira per le strade della nostra bella città. Sopporberete la vergogna di permettere alle vostre moglie e figlie di cadere preda nei suoi imprighi? Oppure agirete? Agite per le vostre donne. Agite per il profeta. Agite! Agite! Quando ero una ragazza sognavo di trovarmi in una stanza guardando una ragazza che ero e non ero io. E che guardava un'altra ragazza e anche lei ero. Sai perché ti hanno ingaggiato per recuperarmi? Mi immagino siano interessati a incontrarti. Senza dubbio per delle lezioni di scasso. E l'inizio di una carriera nella fisica. Stop! Alizio! Non hai la minima possibilità. Non lasciate che si sposta! Pensi che i Bugs si sapessano come erano? E' già malattare le... Non hai la minima possibilità. Sala degli Eroi, chiusa fino a nuovo. Sarà una coda in cui infilarsi. Che diavolo! C'è qualcosa che non va. Niente di irreparabile. Devo rimettere in moto questo affare. Meglio dare un'occhiata al pannello, sembra un corto. Oh, è un'ape. Io li odio davvero. Ah cavolo, uccidila. No, mi pungerebbe. Elizabeth. Ho un'idea migliore. Ma che stai facendo? Apro uno squarcio. Merda! Che roba è? È uno squarcio. Li aprivo sempre nella mia torre. Cos'è uno squarcio? Ecco.